Ciao a tutti, sono Andrea Casali e sono il bassista cantante di Icefish ed Astra. Da poco ho iniziato una collaborazione con la Dorazio Strings, un'azienda made in Italy, ed i loro prodotti sono interamente fatti a mano. Tra le varie tipologie di corde che loro producono, io ho scelto questa mix series, che sarebbe un mix tra la corda in acciaio e la corda in nickel. Fondamentalmente, per quanto mi riguarda, è un ottimo compromesso tra la corposità della corda in nickel e la brillantezza dell'acciaio. Per quanto riguarda le scalature, per il quattro corde utilizzo un 45, 105, rispettivamente 0,45, 0,65, 0,85 e 105. Per il cinque corde utilizzo la stessa tipologia di scalatura, aggiungendo alla quinta corda un 130. Adesso andremo ad effettuare un velocissimo cambio corde sul mio ebanez SR1405 e poi vi farò sentire come suonano i Dorazio Strings. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A long, long time ago I dream of a stranger Speaking of a previous life Maybe he was me in the past That vision seems so far away In space and time The finisle lie to me He's right here right now And he brings me the wisdom Of those who have won't sleep All experiences good or bad They wear From sunrise to sunset Inspired from the voice That guides me every single day To make the... Thank you very much for the love of me Thank you very much for the love of me Thank you very much for the love of me